Terzo focus organizzato dall'associazione, dalle associazioni familiari di Puglia in questa marcia di avvicinamento verso le elezioni amministrative, questo terzo forum dedicato alle famiglie fragili. Allora qual è l'obiettivo, che cosa chiedete? Come in occasione dei due precedenti focus, il forum delle associazioni familiari intende proporre l'esperienza viva quotidiana delle associazioni familiari che si occupano quotidianamente di diversi problemi per elaborare proposte su cui ci confrontiamo. Queste proposte saranno inserite nel manifesto che proporremo ai candidati sindaco e consigliere comunale per una libera ma impegnativa sottoscrizione. Non vogliamo continuare ad avere un ruolo passivo, vogliamo che le famiglie facciano sentire la loro voce a partire dai problemi che quotidianamente affrontano e il forum le sussidia. Quali sono le proposte da sottoporre all'attenzione di coloro che andranno ad amministrare la città prossimamente, dato che ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative? Le proposte sono presentate dalle associazioni che aderiscono a questa iniziativa ed è la proposta di Famiglia per Tutti, che è un'associazione che si occupa della formazione delle famiglie affidatarie, che ha individuato la carenza di un centro unico nella città di Bari dove far confluire tutte le risorse e anche la formazione per le famiglie, un centro che praticamente sia conosciuto da tutta l'utenza e da tutte le persone che si vogliono avvicinare a questa forma di solidarietà. Un'altra proposta molto importante, sempre in termini comunque di affido e di famiglia, è quella di creare un centro per la famiglia proprio a livello comunale, dove possono essere diciamo discusse e risolte alcune problematiche tipo le separazioni e i divorzi e quindi creare magari anche un corso prematrimoniale per il matrimonio civile.